guardate oggi che magnifica giornata guardate si è trasformata è rinata non era l'unico parlato eccole qua abbiamo trovato due sirene a misena dici ma da dove vengono? non si sa tu mi si dà c'è anche il due agli orso eccola qua eccola qua la stella non ti afficcina la casa non ti afficcina la casa aspetta a rossano ti ha persa a rossano ah no no ecco basta non è una fotografia faccio il fotografico e il tessero, adesso vedi la patente, certificato di residenza lato rotto, vi andiamo a fare documenti, che bella è scritta quella è fatta apposta perchè poi fai così oh buongiorno, come va pure lei qua? eh ora arrivo, arrivo, sta sullo scoglio vivere senza tu eh? ah io non faccio i commenti, salvatore quando ti ti figlio no? ti chissà che stai facendo, non film è la sua comedia dell'amore oh vada allà ma io faccio semplice quella che abbiamo fatto a casa, le ho fattimento di tagliare le cozze a fette ha fatto a fette le cozze? eh fanno le cozze a fette però eh stavolta non hai fatte le cozze a fette? ah è un bellone ah è un bellone come le felle di cozze ma se ne chiude quella cosa? ma pure la seconda piazza ma per mostrare il tuo garage però cosa dimmi però si signora si signora si signora anche quando cambio casa si tanto 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 si signora si signora te la ma si signora non si signora si signora i i i i Ehi